Senti, arriva Faenza, facciamo un passo indietro alla partita di giovedì contro Fenerba, c'è questo scatto a un certo punto nella partita, un po' l'attesa è che ci sia la stessa tensione da qui alla fine della stagione, nei tifosi che hanno anche aumentato questa carica che c'era in campo. Sì, dai, con Fenerbahce siamo cominciati male e poi quando l'equipo come Fenerbahce prende 10-15 punti in fronte di noi c'è un po' difficoltà per noi di ritornare sulla partita, però dai, con tutti i tifosi che aiutano, facciamo bene, è un terzo o quattro parte in difesa, siamo tornati da 5-6 punti però dobbiamo cominciare più aggressive in primi minuti di partita e poi ci va bene tutto il resto. Ecco, però l'altro dato che è emesso è che comunque fisicamente, visto che avete comunque lottato fino alla fine, state bene. Sì, sì, dobbiamo correre un po' di più come Fenerbahce su questa partita perché abbiamo tutti i giochettrici che sono forti, che sono velocissime anche indietro, fuori e dobbiamo correre in più. Senti, come cambia se cambia l'atteggiamento da una partita come quella contro Fenerbahce tra le squadre top d'Europa a Faenza, con tutto il rispetto, ma che comunque c'è un po' di distanza tra le due squadre? Sì, sì, si vede differente però noi dobbiamo cominciare tutte queste partite, anche di campionato, anche di Euroliga, lo stesso pensiero. Noi dobbiamo pensare che forse Faenza è più non così buona come Fenerbahce e adesso possiamo leggero giocare con loro. No, no, dobbiamo allenare su queste partite di campionato più forte perché è buon allenamento, buona partita per noi, anche per Euroliga. Senti, Faenza che arriva con due vittorie su due partite, contro le non promosse, ma comunque insomma ha punteggio pieno e chiaramente venendo a giocare qui a Schio proverà in tutti i modi a fare lo sgambetto, no? Sì, tutti vengono qua per vincere perché noi siamo campionese e poi tutti che vengono a giocare con noi non avevano niente di perdere. E loro hanno anche cambiato tante giocatrici, adesso nuova squadra, nuova energia, nuovo tutto. Per noi, noi dobbiamo cominciare partite come sempre, forte, buone in defesa, correre e questo è il risolto per noi.